Bene, ritrovati a Passione Bianco-Rossa, la trasmissione di VB33 dedicata all'FC su Tirol. Buonasera, buonasera a tutti voi e buonasera al nostro gradito ospite di quest'oggi, il difensore bianco-rosso Kevin Vineto, uno dei cosiddetti veterani del gruppo. Ciao Kevin, benvenuto nei nostri studi. Buonasera, grazie. Partiamo dall'ultima partita giocata sabato scorso nella prima gara del triangolare di Supercoppa. Questa splendida squadra ha saputo confezionare un'altra prestazione da incorniciare. vincendo in rimonta con il piglio mostrato praticamente sempre nel corso della stagione anche su un campo come quello di Bari. Che partita è stata? Diciamo che già è stata una partita di prestigio perché per noi andare a giocare contro il Bari nel suo stadio storico è stata una bella emozione. Poi la partita è stata una partita, secondo me, giocata a viso aperto da tutte e due squadre e penso che chi ha visto la partita si è divertito come noi in campo. Vinta con carattere, con il carattere che caratterizza questo sutiro di quest'anno. Sì, vinta con carattere perché andare sotto in quel momento non era facile perché era un momento dove stavamo bene, dove facevamo gioco noi e niente, siamo rientrati dopo la pausa e con il piede giusto e con il carattere siamo portati a casa. Con l'ausilio delle immagini andiamo a vedere le fasi salienti della gara giocata al San Nicola tra Bari e Sutirol nel servizio della nostra redazione. Forse l'FC Sutirol aveva solo bisogno di quella vittoria a Trieste per tornare a volare. Quella che è stata, numeri alla mano, la migliore squadra della Serie C quest'anno nell'ultimo mese era apparsa un po' bloccata, magari per l'emozione di non mancare il bersaglio grosso. Contro il Bari, invece, i biancorossi hanno giocato una grande partita che ha messo in mostra le loro qualità, ma anche il loro carattere battagliero. I ragazzi di mister Ivan Javorcic, infatti, non si sono fatti scoraggiare dal gol subito al 33esimo quando Del Rico, su uno scarico di Simeri, ha trovato la rete con un tiro a fil di palo alla destra di Meli permettendo ai padroni di casa del Bari di andare a riposo sull'1-0. All'inizio della ripresa, però, è il suo tiro a partire meglio, a trovare il pareggio al quinto minuto grazie a una bella botta da fuori di mezzo esterno di De Col, che è complice a una leggera deviazione e non dà scampo al portiere. A questo punto i biancorossi ci credono e Javorcic manda in campo Gatto e Casiraghi per Maidate e Galuppini. Mossa azzeccata, visto che al 27esimo Daniele Casiraghi, vero e proprio talismano di questa squadra, dopo un'azione manovrata si fa trovare al posto giusto sul cross di Bro e insacca con una bella girata al volo. Il Sutirol, con una buona prova in trasferta contro una squadra del suo stesso livello, dimostra di avere il carattere giusto per affrontare la nuova categoria e intanto prende i primi tre punti del triangolare di Supercoppa. Questo sabato tocca a Modena contro Bari. Il 14 di maggio, invece, gli Emiliani arriveranno al Druso per l'incontro finale, che deciderà il trofeo. In caso di arrivo a pari punti di due o più squadre, si guarderà prima alla differenza reti, poi ai gol segnati e infine a quelli fatti nella gara fuori casa. Kevin, restiamo alla Supercoppa. Dopo la Coppa Italia persa in casa con il Padova, dopo il campionato vinto da protagonisti assoluti, ora c'è questa Supercoppa, un triangolare tra le tre vincitrici. Diciamo che l'appetito vi è mangiando. Hai detto bene. Diciamo che il mister ci ha inculcato un modo di vedere le cose e quando entriamo in campo vogliamo vincere. Quindi entriamo in campo per giocarci questa partita e a questo punto provare a vincere questo trofeo, che sarebbe una bella soddisfazione. Sabato ci sarà a Modena Bari la seconda partita, poi sabato 14 su Tirol-Modena si preannuncia un'altra grande e bella partita, un'altra giornata di spettacolo calcistico puro che precederà tra l'altro la festa in piazza per la promozione. Insomma un gran finale. È un gran finale, si affronteranno due belle squadre, due vincitrici, quindi penso che ci sarà da divertirsi durante la partita e anche dopo. E torniamo a Bari, al San Nicola e andiamo a sentire le dichiarazioni rilasciate nell'immediato post partita da mister Ivan Javorcic in Sala Stampa. È stata una gara bella da giocare contro una grande squadra, sicuramente è un'ottima esperienza, è un contesto molto bello perché Bari è una piazza importante, noi abbiamo fatto un'ottima partita, quindi sono contento per i ragazzi e ci prepariamo per l'ultima della stagione. Diciamo che la partita comunque è stata divertente, aperta, due squadre che volevano vincere, Bari è passato in vantaggio, noi nel secondo tempo abbiamo fatto certe cose meglio, in maniera più pulita, siamo riusciti ad andare in vantaggio, dopo c'è stata la giusta sofferenza finale, è comunque stata una partita importante, visto comunque il fatto che domenica abbiamo finito il campionato, quindi non era semplice prepararla, sono contento per i ragazzi, sono dispiaciuto molto per Mavuli perché comunque è un ragazzo che arrivava già da un problema, da un periodo difficile, nell'altro crociato, ecco è l'unico neo di questa giornata comunque positiva. Penso che questi ragazzi meritano solo complimenti perché oggi abbiamo cambiato tanto rispetto alla domenica scorsa, è stato un po' il light motive di tutto il campionato, soprattutto già da gennaio in poi dove abbiamo fatto 18 partite di fila mercoledì e domenica e tutti sono stati coinvolti, tutti hanno fatto delle partite di grande livello e oggi era giusto premiare il gruppo e il gruppo ha risposto presente. Kevin, riprendendo le parole del mister, anche a Bari il su tiro ha dimostrato che cambiando diversi fattori, ovvero giocatori, il risultato in termini di bel gioco, in sostanza approcce quanto altro, dà lo stesso risultato. La compattezza, l'intercambiabilità del gruppo, è stato questo uno dei veri grandi punti di forza dell'intera stagione? Sì, come abbiamo spesso detto, la nostra forza è la forza del gruppo, c'è chi entrava, chi giocava, potevamo cambiare gli interpreti, però la canzone era sempre la stessa, quindi è stato fondamentale per noi. E torniamo ancora a Bari, in sala stampa San Nicola, per sentire le opinioni dei protagonisti, ovvero degli autori delle due reti bianco-rosse, Pippo Decol e Daniele Casiraghi. È stata una partita particolare, molto bella, in uno stadio bellissimo, mi fa sempre piacere tornare in uno stadio così importante, secondo me è stato il giusto premio per la stagione che abbiamo fatto, e oggi abbiamo meritato la vittoria, contro una grande squadra che ha fatto un grande percorso, e ha vinto il proprio girone, e merita tutto il rispetto, e quindi siamo contenti di questo. Abbiamo corso molto, è un'altra gioia personale che si va ad aggiungere alle altre, e sono felice di questo, perché per il blasone della partita, per lo stadio, è un ricordo che resterà sempre dentro di me. Guardiamo gara 3, innanzitutto vorrei fare un augurio a Schacchi, e speriamo non sia nulla di grave quello che gli è successo, e gli faccio il mio più grande in bocca al lupo, anche da parte di tutta la squadra, e speriamo incrociamo le dita, e poi vedremo l'entità, e vediamo, poi dopo penseremo all'altra partita, sicuramente sarà un'altra sfida importante contro il Modena, allenata da grande allenatore, mi aspetto già una partita molto difficile, perché ogni volta che l'ho incontrato, sa preparare benissimo le partite, quindi ci godiamo questa vittoria, e andremo a pensare al Modena da martedì prossimo. L'ho girata subito di prima al volo, è partito bene il tiro, che è rimbalzato davanti al portiere, credo, e per fortuna poi la deviazione è andata dentro. È una bella sensazione, anche perché ci dà comunque ancora più fiducia, e merito per quello che abbiamo fatto, quindi possiamo essere solo che contenti. È stata una gara che abbiamo approcciato bene, abbiamo cercato di imporre il nostro gioco al nostro ritmo, contro una grande squadra con grandi giocatori, però abbiamo fatto bene, purtroppo siamo andati sotto, però poi bravissimi a rimontarla. E ora ci riposiamo questa settimana, vediamo cosa fanno gli altri, e poi ci affronteremo il Modena, e soprattutto finalmente festeggeremo con i nostri tifosi a casa. Kevin, un campionato con 90 punti, come solo la Ternana lo scorso anno ha saputo fare, ha intentato gare con 27 vittorie, 9 pareggi, 2 sole sconfitte, 49 gol fatti, 9 subiti, ben 29 clean sheet, insomma una stagione da record per il Sud Tirol, una quota punti impressionante. Secondo te che campionato è stato? Lo dicono i numeri, è stato un campionato di alto livello, penso che siamo stati sin da l'inizio, abbiamo fatto cose importanti, risultati importanti, e abbiamo avuto tanta costanza, e penso che è questo che ci ha premiato alla lunga, rispetto al Padova. Usando una metafora ciclistica, su Tirol e Padova si sono staccati ad un certo punto del gruppo, per dare vita ad una spettacolare vorata, con Rimonte contro Rimonte, e alla fine del Sud Tirol che ha dato questo splendido colpo di Reni. Sì, penso che sia stato più divertente, vederlo da fuori che viverlo in campo, ma diciamo che noi ci abbiamo sempre creduto, anche se le ultime partite, magari vedendo il Padova che si avvicinava sempre di più, magari c'è stata un po' più di tensione, ma noi abbiamo sempre pensato di portarla a casa. Una tensione che possiamo dire è che è stata trasformata anche in energia positiva, perché a volte la tensione rischia anche di bloccare, invece voi siete stati bravi, proprio per la forza di tutto e di tutti, nel riuscire a trasformarla in energia positiva. Sì, sì, giustamente perché eravamo consapevoli dei nostri pregi, quindi alla fine, ecco, la compattezza del gruppo, la fiducia in sé di se stesso, l'hanno portati a casa, ripeto. Ci fermiamo ora per qualche istante, restate con noi per la seconda parte di Passione Bianco-Rossa. E rieccoci in studio per la seconda parte di Passione Bianco-Rossa con Kevin Vineto. Kevin, dal 18 gennaio scorso, praticamente fino a un paio di settimane fa, si sono giocate tre partite alla settimana, non è stato propriamente facile, anzi tutt'altro, questo rende ancora più importante e significativo il risultato finale. No, infatti non è stato facile, perché non è una cosa che succede spesso in Serie C, quindi sono ritmi a cui atleti di Serie C non sono abituati, però, ripeto, la forza del gruppo ci ha permesso di andare, di scendere in campo sempre e dare il 100% per portare via tanti punti durante questo periodo. Tu sei Bianco-Rosso dal gennaio del 2017, quattro stagioni e mezzo, la prima con Zanetti, la semifinale di Cosenza, la seconda ancora con Zanetti e un'altra rocambolesca gara di play-off, il 3-3, Monza secondo turno, poi ci sono stati i play-off nazionali nell'anno della pandemia con la Triestina, lo scorso anno l'eliminazione nel secondo turno nazionale dei play-off con l'Avellino e ora diciamo che ci voleva la promozione diretta. Sì, infatti perché non c'ho un bel feeling con i play-off, quindi ci voleva la promozione diretta. Senti, di questi play-off che hai vissuto, qual è stato quello che ti ha lasciato maggiore amarezza in termini di risultati, di epilogo finale? Diciamo che quelli dell'anno scorso un po' mi hanno lasciato un po' di amarezza perché ci credevo tanto, eravamo arrivati bene in campionato, poi si deve fare proprio quella che chi mi ha dato più emozioni negative è stata la persa a Cosenza perché di Romo vicino proprio alle... Impresa fatta in casa e poi diciamo che a Cosenza è sfumata di un non nulla come si dice. Nei giorni scorsi il presidente della provincia Arno Compaccer ha fatto visita alla squadra all'FCS Center per congratularsi di persona. Abbiamo avvicinato il governatore Alto Tesino al termine dell'incontro con la compagine Biancorossa sentiamo le sue dichiarazioni. Presidente, innanzitutto come ha vissuto la partita di domenica? Io l'ho seguita in diretta a TV e devo dire qualche quasi arresto cardiaco mi è arrivato però dall'altro lato ho visto una squadra che era superiore all'avversario che era sempre ben messo in campo che aveva sotto controllo la partita e dopo ovviamente il primo gol subito si sapeva che si metteva bene poi si sentivano anche i risultati delle altre partite soprattutto diciamo della partita del Padova e alla fine è stata una gioia enorme. Quante soddisfazioni ha dato questa squadra qui in una stagione in cui è arrivata in Serie B ma tra l'altro è arrivata a suon di risultati e a suon di record? Beh, innanzitutto prendere solo nove gol diciamo a livello professionistico in Europa credo che sia l'unica squadra di esserci riuscita e il successo sportivo ovviamente il massimo che si poteva ottenere con la promozione in B ma non solo anche credo il gioco io ho assistito anche a varie partite direttamente allo stadio devo dire che è stato anche un gioco che è stato bellissimo e superiore a quello diciamo delle altre squadre adesso è al di là del successo sportivo c'è anche chiamiamolo successo sociale che ha anche una sorvalenza politica per così dire le tifoserie diciamo la tifoseria di tutti i gruppi linguistici uniti tutti diciamo per l'idea di essere uniti per questo bellissimo gioco che è il gioco del calcio ma anche una squadra che rappresenta l'idea diciamo di un alto alice dove non solo si convive pacificamente ma forse si coglie anche il valore aggiunto proprio di questa situazione particolare che abbiamo e il valore social politico è stato tra l'altro riconosciuto in questi giorni solo come ufficio stampa abbiamo organizzato oltre 100 interviste a livello nazionale beh sicuramente l'Efse Suite World adesso è anche una piattaforma un canale per raccontare l'alto alice su Tirol nel resto del paese perché sappiamo che tanti italiani non conoscono neanche le nostre peculiarità e già il nome che è un po' esotico e qualcuno ancora fa fatica a pronunciarlo lascia l'idea che lì diciamo qualcosa di diverso c'è e poi alla fine c'è un po' di curiosità per capire meglio e lì potremmo mandare dei messaggi che diciamo rappresentano il nostro territorio le nostre ambizioni sempre ovviamente senza voler insegnare niente a nessuno ma dimostrando ciò che stiamo facendo creando sinergia funzionale tra le istituzioni la società con le fondamenta belle e solide che tra l'altro fanno leva anche e soprattutto sulle infrastrutture in questo senso la provincia è stata particolarmente sensibile con l'ultima lo stadio d'uso che è arrivata giusta giusta per la promozione beh il successo sicuramente arriva da lontano è stato costruito nel tempo per quanto riguarda la squadra anche diciamo poi tutti i giovani gli alentori lo staff ma anche per quanto riguarda le infrastrutture dove la provincia l'autonomo di Bolzano ha dato la sua mano abbiamo investito sia qui a piano ma anche ovviamente al stadio Druso per portarlo ai livelli che sono necessari per poter competere a questi livelli diciamo in Italia e oggi ne possiamo essere orgogliosi e fieri credo che abbiamo delle strutture che sicuramente sono molto competitive e vedremo che adesso lo stadio lo stadio sicuramente accoglierà sempre tante persone si sanno sempre di più che sicuramente la squadra Kevin il tempo a nostra disposizione è quasi scaduto un'ultimissima battuta a chi dedichi questa promozione in Serie B? vuol dire che la dedico a tutti i tifosi del Sottirole e soprattutto a chi lavora dietro le quinte che sta al quotidiano con noi grazie grazie a Kevin Vineto il trentesimo numero stagionale di Passione Biancorossa termina qui grazie a tutti voi per la cortese attenzione l'appuntamento con l'ultimo numero stagionale della nostra trasmissione è tra due giovedì alla stessa ora a tutti voi grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata grazie a tutti grazie a tutti grazie grazie a tutti